Un bilancio sulla stagione e la pretesa di domani? La stagione siamo in linea con quello che è il nostro obiettivo della salvezza, quindi dobbiamo cercare di migliorarci ogni giorno in allenamento, cercare di levarci quegli errori che stiamo commettendo a livello individuale e di gruppo, però siamo contenti e fiduciosi per il proseguo del campionato. Domani abbiamo questa partita di Coppa Italia contro la Sampdoria, e poi domenica giocheremo con il Genua. Già domani cercheremo di non sfigurare perché comunque di fronte abbiamo una squadra importante e magari giocherà qualche ragazzo che ha giocato meno, però sarà comunque un esame importante e difficile, soprattutto per far vedere all'allenatore che comunque anche chi gioca meno è comunque adeguato e può dare una mano anche in campionato.